ciao amici ed amiche di youtube ben trovati a questa puntata del cielo della settimana in cui parleremo della luna nuova in acquario ma prima di entrare nel vivo le solite raccomandazioni iscrivetevi al canale che sarà sempre più grande e più bello e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nuove uscite se volete leggere poi l'oroscopo settimanale segno per segno lo trovate al link qui sotto allora se siamo pronti partiamo io direi di entrare dritti nel tema della serata qualcuno in qualche modo l'ha già individuato e sarà la luna nuova in acquario una luna nuova di particolare importanza adesso vediamo perché che si formerà nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio per chi poi ama in qualche modo seguire i rituali della luna l'orario esatto sono le 23 e 58 minuti di venerdì 9 febbraio quindi esattamente a cavallo con il giorno dopo per cui è una luna che abbraccia tanto venerdì 9 quanto sabato 10 ed è una delle lune nuove più importanti di quest'anno per tutta una serie di ragioni primo perché è la seconda luna nuova dopo il sostizio d'inverno dopo il 21 di dicembre e quindi rappresenta il capodanno cinese quindi il tra il 9 e il 10 anzi il 10 perché in cina quando si formerà la luna nuova sarà già abbondantemente il 10 di febbraio inizia ufficialmente un nuovo anno per l'oroscopo cinese inizia l'anno del drago di legno o l'anno del drago verde che tra l'altro leggendo in giro quella ho letto che è un simbolo di prosperità di abbondanza di benessere per cui almeno per l'astrologia cinese quello che inizia il 10 di febbraio è un anno comunque di grande prosperità e di grande crescita noi però le lune nuove le consideriamo un po tutte perché rappresentano l'incipit di un nuovo ciclo rappresentano delle porte che si aprono e che mostrano delle nuove opportunità rappresentano il momento migliore per seminare nuove iniziative nuovi propositi per cominciare nuove cose per cui è uno start che dà il via ad un nuovo ciclo e quindi è molto interessante seguirle in particolare poi questa che se vogliamo rappresenta la prima vera luna nuova di quest'anno un anno in cui saltano i tappi un anno in cui si allentano tutta una serie di gabbie un anno che per tutti e dodici i segni zodiacali ha il sapore dell'innovazione della ribellione e dell'emancipazione ed è un anno che in realtà è iniziato il 21 di gennaio perché è stato il giorno in cui plutone è entrato in acquario e tutti i grandi temi di questo 2024 sono legati proprio a plutone in acquario quindi da questo punto di vista le prime tre settimane dell'anno solare dall'1 al 21 di gennaio sono state una sorta di strascico una sorta di coda del 2023 laddove invece il 21 di gennaio con l'ingresso di plutone in acquario abbiamo aperto veramente le danze di quest'anno che può essere veramente un anno che ci porta ognuno nel proprio vissuto a far saltare qualche tappo e a spezzare qualche sbarra che negli anni passati ci ha tenuti bloccati per cui questa luna nuova in acquario che è il segno della ribellione dell'indipendenza dell'autonomia di pensiero della capacità di pensare controcorrente della capacità di fare nuovi progetti di abbracciare nuove iniziative è veramente il passepartout per quest'anno che cambierà un po gli scenari per tutti e 12 segni zodiacali quindi da questo punto di vista possiamo dire che la luna nuova in acquario del 9 e 10 febbraio è il calcio d'inizio di un campionato che porterà ognuno di noi tra il 2024 e il 2025 a smollare tutta una serie di zavorre a lasciare una zona di comfort che ormai si è fatta stretta e a tornare a giocare in attacco a tornare a giocare in conquista ne parliamo nel corso del video che sarà lo ripeto ancora una volta per la prima parte un video a segni unificati perché il discorso delle lune nuove è talmente importante è talmente penetrante che fossilizzarsi sul proprio segno zodiacale significherebbe perdere di vista buona parte del discorso poi alla fine del video entriamo un po nel merito dei singoli segni zodiacali allora entriamo un attimo nel discorso astronomico che cos'è una luna nuova è una congiunzione tra il sole e la luna e quindi è una sorta di appuntamento che accade ogni 29 giorni circa ed è un appuntamento al quale il sole e la luna vengono a trovarsi nello stesso segno zodiacale nello stesso grado in questo caso il ventunesimo grado dell'acquario e al quale il sole consegna alla luna un messaggio affinché lei ce lo riferisca traducendolo nell'unico linguaggio che siamo in grado di comprendere che è quello delle emozioni per questo le lune piene e le lune nuove sono così importanti perché bypassano tutta una serie di nostre sovrastrutture il senso del dovere il senso di colpa l'ambizione il desiderio di imporsi e arrivano dritte alla pancia quindi ancor prima di tutto ciò di cui parleremo questa sera è importante tenere d'occhio prestare particolare attenzione agli stati d'animo alle sensazioni della luna nuova a tutto ciò che in qualche modo ci suggerisce una nuova strada attirandoci oppure ci spinge ad allontanarci da una vecchia strada facendoci arrabbiare mandandoci su tutte le furie e via dicendo per cui prestate particolare attenzione a tutti gli stati d'animo allora dicevamo che la luna nuova è un inizio è una porta che si apre e che mostra i suoi primi effetti 14 giorni dopo quando si forma la corrispondente luna piena in questo caso la luna piena in vergine del 24 di febbraio e ad un livello un po più strutturato su più larga scala invece mostra i suoi effetti quando si forma la luna piena nello stesso segno sei mesi dopo in questo caso la luna piena in acquario del 19 agosto quindi appuntatevi sull'agenda mentale questi due momenti il 24 febbraio e poi ancora il 19 agosto perché probabilmente in questi due momenti tra 14 giorni e tra sei mesi che potrete vedere i primi effetti le prime conseguenze le prime i primi effetti di scelte decisioni e iniziative poste in essere proprio in questi giorni allora dicevamo il primo indizio sulla natura della luna nuova è proprio il segno in cui si forma in questo caso l'acquario che è un segno d'aria e quindi mentale fatto di ideali è un segno governato da urano che è il pianeta del cambiamento il pianeta dell'innovazione ed è il segno che se vogliamo esprime più di tutti la capacità di pensare fuori dal coro di guardare le cose in prospettiva di guardare le cose da un'angolatura diversa dagli altri e di reinventare certe dinamiche non sto parlando del segno dell'acquario di chi è nato con elementi in acquario ma in generale dell'archetipo dell'acquario perché è quello che in qualche modo spingerà ognuno di noi con questa luna nuova quindi è in prima battuta una spinta a pensare con la propria testa a guardare in direzioni diverse a reinventare certe dinamiche soprattutto quando queste dinamiche sono ormai vecchie ci fanno sentire un po' con le mani legate ci fanno sentire un po' sotto scacco quindi la prima spinta di una luna nuova in acquario è proprio la liberazione come spartacus che spezza le catene e riconquista lo stato libero da schiavo quindi la prima riflessione da fare per capire a cosa serva questa luna nuova è pensare a quali sono quelle dinamiche sul lavoro nella vita privata in amore in famiglia legate alla casa legate al territorio legate alle nostre iniziative che in questo momento ci fanno sentire compressi perché sono proprio quelle su cui la luna nuova andrà a puntare un riflettore che parla di ribellione e di spezzare una serie di dinamiche anche a costo di superare una serie di paure la paura di deludere le aspettative degli altri la paura di essere diversi la paura di fare le proprie scelte autonome la paura di lasciare una zona di comfort e chi più ne ha più ne metta soprattutto superando e andando a spezzare tutta una serie di copioni comportamentali tutta una serie di dinamiche che ormai sono vecchi e che vanno lasciati alle spalle e quindi potrebbe portare questa luna nuova a chiedersi perché rispondo di sì quando vorrei dire di no perché continuo a rimanere in una certa situazione benché mi sia chiaro che non mi porta ciò che desidero perché anziché sperare pensare in qualcosa di diverso non comincio a muovere i primi passi in quella direzione quindi è fortemente una luna nuova di rottura una luna nuova che introduce nuovi progetti e nuove iniziative che soprattutto mostra con particolare chiarezza tutto ciò che ha fatto il suo tempo e tutto ciò che ormai per certi versi è vecchio questo è il primo indizio sulla natura del messaggio della luna nuova il secondo indizio lo andiamo invece a pescare dal resto del cielo e quindi dalla conformazione del cielo nel momento in cui sorge la luna nuova ed è un cielo bellissimo io ce l'ho davanti agli occhi in questo momento poi quando uscirà il post scritto lo condividerò il grafico perché veramente sembra parlare primo tutti i pianeti al momento in cui sorge la luna nuova sono concentrati nello spazio di cinque segni che comincia con il capricorno e finisce con il toro quindi una porzione estremamente circoscritta del cielo che almeno alle nostre latitudini corrisponde a quel settore del tema di nascita che rappresenta l'espressione personale quindi ciò che noi tiriamo fuori di noi e che riverberiamo su ciò che ci circonda l'espressione è il contrario metafisico della repressione c'è espressione nel momento in cui io tiro fuori quello che ho dentro e lo manifesto all'esterno c'è repressione nel momento in cui io comprimo ciò che sono per omologarmi a ciò che è attorno questa è una luna nuova che parla fortemente di espressione e lo si vede già dal grafico del cielo è una luna nuova che sorge con tutta una serie di quadrature che sono molto molto interessanti perché perché abbiamo un bel mercurio al settimo grado dell'acquario in quadratura con giove al settimo grado del toro e già questa è un primo indizio e poi abbiamo una luna nuova al ventunesimo grado dell'acquario in quadratura con urano al diciannovesimo grado del toro questo fa pensare che tutta una serie di situazioni legate a questa luna nuova a tutta una serie di novità e di nuove opportunità giungano a sorpresa luna nuova quadrata a urano urano è il pianeta degli imprevisti delle sorprese delle piccole o grandi rivoluzioni che scombinano le carte in tavola ma così facendo permettono di rompere il guscio e di introdurre qualcosa di nuovo per cui potrebbero esserci delle notizie delle comunicazioni dei risvolti nelle trattative o nei rapporti di lavoro dei risvolti anche nelle situazioni di coppia che scombinano un po le carte in tavola ma che proprio per questo potrebbero creare degli spiragli a cui nessuno di noi aveva pensato prima e quindi introdurre una nuova strada questo è il senso della luna nuova in quadratura con urano quindi c'è un fattore sorpresa e c'è un fattore imprevisto la seconda quadratura quella tra mercurio in acquario e giove in toro fa pensare che comunque si debbano mettere sul piatto della bilancia il desiderio di prendere una nuova strada di lasciare lasciare la zona di comfort di far saltare tutta una serie di situazioni imboccando una direzione diversa e la necessità di conservare comunque alcune alcuni puntelli di sicurezza quindi in qualche modo è una luna nuova che parla di novità di innovazione di imboccare una strada nuova ma impone di farlo secondo un tragitto ben strutturato che non faccia perdere di vista l'importanza di alcuni punti fermi la prudenza il fatto di rispettare alcuni passaggi di arrivarci piano piano per cui senza colpi di testa ma in maniera strutturata e programmata tra l'altro tutto questo fa sì che al centro di questo cielo il centro esatto di questa conformazione sia rappresentato da nettuno per cui parliamo comunque l'obiettivo di tutta questa configurazione sono gli ideali sono le aspirazioni il desiderio di elevarsi al di sopra della monotonia della routine di tutto ciò che ormai ha fatto il suo tempo ma va fatto alla maniera di saturno ancora una volta abbiamo questi due elementi la voglia di cambiare ma il fatto di farlo in maniera organizzata in maniera ordinata per cui è una luna nuova a riassumendo che ci mostra nuove opportunità ci spinge a fare nuovi progetti a guardare in direzioni diverse a elaborare nuovi propositi che lo fa spesso in maniera imprevista introducendo nel quadro dei fattori che non avevamo considerato che ci possono spingere a dire ma perché no perché non imboccare una nuova strada ma che va fatto secondo criteri di prudenza di organizzazione e di struttura la seconda la terza cosa che andiamo a fare per guardare il significato di una luna nuova è guardare il simbolo sabbiano legato al grado in cui si forma che in questo caso è il ventunesimo grado dell'acquario e anche qui abbiamo delle conferme che sono interessanti perché ancora una volta il simbolo dice un tappeto posto su un pavimento per far giocare i bambini cioè ancora una volta abbiamo un un tappeto su cui giocano i bambini i bambini sono in formazione stanno imparando non sono ancora autonomi e per questo che fanno giocano cioè sperimentano sperimentano sul tappeto cioè su una zona circoscritta e protetta lo scopo di questa luna nuova per certi versi è spingere i bambini a uscire dal tappeto a gattonare a prendere confidenza allargando certe prospettive a lasciare una zona protetta per rimettersi in gioco ma questo va fatto secondo appunto dei criteri di prudenza perché sono pur sempre bambini e quindi con lo sguardo rivolto in avanti con il senso del pericolo un po ribassato ma soprattutto con la voglia di guardare lontano di conquistare il mondo senza la paura di andare lontano per cui è un una sorta di via d'incontro tra la voglia di rompere le righe tipica di questi transiti in acquario e il bisogno di farlo in maniera misurata in maniera controllata e strutturata e sono la contropartita delle quadrature dal toro allora adesso andiamo a guardare per i singoli segni zodiacali quali sono le aree in cui questa luna nuova potrebbe esprimere di più la sua funzione il suo i suoi effetti ma se conoscete il vostro tema di nascita andate anche a guardare dove cade il ventunesimo grado dell'acquario perché vi darà una casa che rappresenta un po' quell'area quell'ambito di esperienze di vita in cui la luna nuova pure potrebbe farsi sentire particolarmente forte come mettere insieme le due informazioni diciamo che il vostro segno zodiacale ci dà l'informazione più generale più aperta laddove invece la casa del vostro tema di nascita individuale in cui sorge la luna nuova ci dà un'informazione più specifica per cui si eva dal generale al particolare adesso andiamo a guardare tutti i 12 segni e poi alla fine rifaccio questo stesso esempio in maniera più circostanziata se non sapete in che casa vi cade la luna nuova potete calcolare il tema di nascita e poi c'è un approfondimento scritto che ricondividerò anche in questo video in cui ci sono le istruzioni diciamo semplici per andare a vedere in quale casa cade un determinato punto del tema di nascita allora partiamo proprio dall'acquario che è il segno che riceve la luna nuova in casa ma anche da chi ha la luna nuova in prima casa qui il tema sono proprio è proprio un desiderio di rinnovarsi di reinventarsi di mostrarsi in una chiave nuova di rompere tutto ciò che in qualche modo rappresenta una mia immagine ormai vecchia e far uscire fuori ciò che io invece mi sento di essere dentro e quindi dal più piccolo al più grande dalla necessità di cambiare look di cambiare il proprio aspetto fisico di cambiare l'atteggiamento verso le cose di cominciare a fare cose diverse di mostrarsi di mettersi in gioco in un ruolo leggermente differente in questo momento l'acquario ma anche chi ha questa luna nuova in prima casa ha proprio bisogno di rompere un pregiudizio su di sé agli occhi degli altri ma agli occhi propri anche prima di tutto per cui c'è la possibilità anche di cimentarsi in cose diverse dal solito di alzare la mano e fare sul lavoro cose che non si sono mai fatte prima di avventurarsi in terreni che uno non ha mai esplorato ma soprattutto proprio di mostrarsi in una luce diversa il che significa fare nuove cose che mi somiglino ma anche dire basta a cose che faccio dal passato che non mi somigliano più e quindi qualcuno questa settimana potrebbe anche affrontare un discorso sul lavoro dicendo io questa cosa non la voglio più fare ho una dinamica di coppia nel momento in cui si dice io questa di fronte a questa situazione non mi ci voglio più trovare cioè troviamo un modo per uscirne fuori comunque sia per l'acquario e perché la luna nuova in prima casa il tema è proprio l'immagine di me che do al resto del mondo come appaio cosa voglio trasmettere di me cosa voglio che gli altri vedano in me soprattutto se dentro sono cambiato e quindi non sono più uguale a ciò che ero una volta andiamo indietro perché quando facciamo le lune andiamo con i segni a ritroso arriviamo al capricorno e a chi ha la luna nuova in seconda casa qua le tematiche possono riguardare i soldi possono riguardare le condizioni economiche del lavoro possono riguardare alcuni aspetti più concreti ma allargando il discorso la tematica di fondo è la valorizzazione per cui è vero che qualcuno potrebbe chiedere più soldi sul lavoro potrebbe chiedere che gli venga riconosciuto uno straordinario un qualcosa che è sulla dal suo ruolo e che normalmente passa in cavalleria potrebbe essere un discorso che riguarda le condizioni di un rinnovo ma più in generale il discorso di fondo è proprio quello della valorizzazione voglio sentirmi riconosciuto da tutti i punti di vista è valorizzato e siccome in un mondo concreto come quello in cui viviamo la prima forza la prima forma forse di valorizzazione è proprio il riconoscimento economico c'è bisogno che all'impegno profuso corrisponda un riconoscimento anche in termini di busta paga in termini di stipendi eccetera eccetera sempre legato al tema della concretezza delle risorse qualcuno potrebbe decidere di investire il tempo l'impegno il denaro in progetti diversi potrebbe fare dei preventivi per capire se certi obiettivi sono realizzabili in che tempi se c'è bisogno di tagliare alcuni aspetti non necessari comunque è una luna nuova che parla di grande concretezza diciamo che per il capricorno e per chi ha questa luna nuova in seconda casa è come se ormai fosse chiaro quali sono gli obiettivi da raggiungere ma bisogna che si confrontino con il banco di prova della concretezza si possono fare non si possono fare quanto tempo ci vuole quanti soldi ci vogliono dove li trovo e quindi potrebbe essere anche una luna nuova che apre la sponda a richieste di mutui di presti di finanziamenti di pianificazioni qualcuno potrebbe chiedere dei preventivi e via dicendo andiamo ancora indietro sagittario o luna nuova in terza casa questa è una bellissima luna nuova perché è come se desse al sagittario o chi ha la luna nuova in terza casa una voce e un microfono per farla ascoltare più forte per cui c'è la possibilità di mettere in ballo le proprie idee i propri punti di vista e di farli apprezzare c'è la possibilità di parlare apertamente di ciò che non vi va più bene e di ottenere molto anche in termini di aggiustamenti di correzioni c'è la possibilità che una notizia un'informazione rimetta le carte in rimescoli le carte per chi sta cercando un lavoro o per chi intende cambiarlo è una settimana dove vi invito a tenere gli occhi aperti sugli annunci tenere le orecchie aperte far passare parola se state cercando lavoro perché veramente è un cielo che potrebbe portare delle novità importantissime ma soprattutto è una luna nuova che spinge il sagittario a parlare di tutto ciò che non ha affrontato verbalmente negli ultimi tempi soprattutto per paura o per tabù o perché si sentiva insicuro o per paura di affrontare certi nodi spinosi e quindi è un sagittario che parla e che ottiene moltissimo anche perché tutto il cielo di lungo termine sta andando a favore a febbraio arriveranno a favore anche marte anche venere via dicendo per cui è un una luna nuova che apre le danze anche dei dialoghi a partire dai quali possono cambiare e migliorare tante situazioni andiamo ancora indietro arriviamo allo scorpione e chi ha questa luna nuova in quarta casa qua il tema di fondo sono le radici il radicamento le sicurezze capire su cosa posso contare e cosa no quindi sentirsi più forti sentirsi più solidi a partire proprio dalla prima forma di radici che è la casa per cui per lo scorpione ma anche per chi ha questa luna nuova in quarta casa questo potrebbe essere un momento in cui il tema della casa della famiglia attraverso dei lavori di ristrutturazione attraverso delle manovre che riguardano gli immobili può rappresentare proprio un modo per sentirsi più radicati per sentirsi più forti quindi qualcuno potrebbe anche affrontare dei discorsi che riguardano la convivenza che riguardano l'andare a vivere insieme che riguardano le prospettive o le evoluzioni di un di un rapporto quindi è una luna nuova in cui lo scorpione è come se dicesse ok se ci sono delle situazioni iniziali cerchiamo di capire se possono progredire oppure no se ci sono delle situazioni affettive iniziali cerchiamo di capire se vogliamo le stesse cose oppure no e molto spesso tutto questo ruota attorno al tema della casa andiamo ancora indietro arriviamo alla bilancia e a chi ha la luna nuova in quinta casa allora innanzitutto diciamo che la bilancia si sta piano piano lasciando alle spalle una serie di zavorre che hanno pesato tantissimo nella prima parte di gennaio nella prima parte anche anche diciamo nei questi primi giorni di febbraio ma gennaio è stato veramente un mese pesantissimo il sole mercurio marte venere tutti in quadratura con questo plutone che ha lasciato il capricorno per andare in acquario per cui è stato un periodo in cui ci sono state delle questioni faticose da affrontare probabilmente anche una situazione psicofisica in calo una sensazione di non riuscire a sbrogliare certe matasse a ricadere costantemente in certe situazioni per cui diciamo che innanzitutto la bilancia si lascia alle spalle un mese di gennaio che veramente l'ha messa ai minimi termini abbiamo una bella luna nuova in quinta casa che è la casa della creatività del benessere dell'espressione del romanticismo della fortuna per cui sicuramente una luna nuova che apre delle nuove possibilità che vanno a migliorare a risolvere a riparare ciò che gennaio ha rotto per cui inizia un mese di febbraio che vi permette anche di mettervi più in gioco di mettervi più in mostra di azzardare di fare degli incontri fortunati che possono sbloccare certe situazioni e non ultimo anche il fatto di riportare in alto il romanticismo gennaio è stato un mese freddo è stato un mese cupo è stato un mese in cui nei rapporti di coppia si è visto sempre il lato più difficile febbraio da questo punto di vista allarga dei nuovi scenari delle nuove opportunità luna nuova in quinta casa per la bilancia significa anche che volendo si può tentare un piccolo azzardo una scommessa se c'è qualcosa che vi sta a cuore e che richiede una piccola dose di azzardo questa è la settimana giusta per farla andiamo ancora indietro arriviamo alla vergine o a chi ha questa luna nuova in sesta casa qui il tema è molto simile a quello della vergine ai valori della vergine perché è il riordino la riorganizzazione di certe situazioni anche e soprattutto se dinanzi c'è un cambiamento importante penso ad un trasloco c'è bisogno di fare gli scatoloni penso ad un debutto c'è bisogno di rivedere tutta una serie di cose di fare di ripassare se c'è un esame da davanti c'è un rush finale se c'è una consegna di un progetto insomma qualunque sia l'obiettivo che probabilmente tra gli ultimi giorni di febbraio e marzo arriverà e sarà diciamo attuale c'è bisogno di arrivarci preparati e quindi ordine metodo organizzazione divisione dei compiti ognuno deve fare il suo perché da questo punto di vista marzo può essere veramente un nuovo importante inizio ma penso anche all'impegno all'edizione alla determinazione penso ad amadeus vergine con un festival di sanremo che gira attorno a questa luna nuova probabilmente c'è bisogno che ognuno faccia il proprio ruolo affinché l'ingranaggio possa girare in maniera oleata anche perché la vergine questo è un grande tema del 2024 sono anni in certi casi 12 anni che nel caos e nella disorganizzazione generale ogni volta che c'è qualcuno che non fa ciò che deve interviene per sostituirsi ma a forza di fare questo a forza di fare il lavoro di tutto il team le sue o di o di smazzare tutto all'organizzazione della casa o della famiglia le sue aspirazioni sono rimaste indietro e questo è proprio un momento in cui c'è bisogno di riprenderle in mano per cui ordine e organizzazione sono il viatico per potersi concedere qualcosa di più a partire da marzo andiamo ancora indietro arriviamo al leone o a chi ha la luna nuova in settima casa qui c'è una luna nuova in opposizione l'opposizione è sinonimo di confronto questa è una luna nuova che apre un falò di confronto che apre un tavolo di trattativa in cui il leone ha bisogno di capire che direzione stanno prendendo alcune situazioni quindi quali sono le situazioni su cui puntare e quali no quali sono le persone su cui contare e quali no quali sono le possibili evoluzioni di tutto ciò che in questo momento è ancora work in progress e quindi se una determinata trattativa si chiuderà oppure no se un certo accordo lo possiamo rinnovare se un rapporto di coppia è allineato se vogliamo ancora le stesse cose oppure no quindi diciamo che è un banco di prova importante è un tavolo delle trattative importante in cui il leone prende di petto tutto ciò che in questo momento è troppo astratto è troppo vago è troppo ambiguo non è chiarito per cui è un momento in cui le cose devono prendere una piega più definita probabilmente nella seconda metà di questa settimana e nella prima metà della prossima molti se c'è qualcosa che non gli quadra potranno dire ti devo parlare aprire un discorso chiarirsi confrontarsi anche con dei toni abbastanza accesi fin tanto che non si arriva ad una quadra ad una soluzione comune fino ad arrivare a considerare di chiudere certi rapporti o di allontanarsi di accantonare certe situazioni se questo invece non è possibile una cosa è certa è che il leone in questo momento arriva ad un punto in cui se le cose non gli stanno più bene e nei mesi passati per non parlare degli anni passati se le fatte scorrere addosso per quieto vivere per porre di affrontare un certo discorso per porre di turbare certi equilibri a questo punto non ci sta più per cui apre bocca e dice chiaramente cosa le cose come le vede come le pensa andiamo ancora indietro arriviamo al al cancro o a chi ha la luna nuova in ottava casa allora tutto questo scenario il cancro l'ha già attraversato il mese scorso per cui è come se adesso fosse molto più sicuro di sé nel corso del mese piano piano cadranno tutta una serie di opposizioni anche mercurio dal 5 febbraio anche marte e venere da metà febbraio lasceranno l'opposizione quindi comincerà a sentirsi molto più sicuro di sé capace di insistere in certe situazioni se non ottiene ciò che vuole in caso capace anche di tagliare di accantonare e di mettere un punto a tutto ciò che non va più nella direzione che desidera per cui innanzitutto è un cancro che fa pulizie che taglia i rami secchi che elimina tutto ciò che è di troppo che non lo porta da nessuna parte ma è anche un cancro che può ripartire attraverso tutta una serie di nuove collaborazioni di nuove persone di nuove dinamiche e in certi casi anche di nuove risorse questa è una settimana formidabile per il cancro o per chi ha questa luna nuova in ottava casa soprattutto per chi cerca un finanziamento per chi cerca un mutuo un prestito per chi sta cercando di accedere ad un fondo per chi ha bisogno di rivedere di riaggiustare delle questioni con la burocrazia per cui è una settimana che permette di ridefinire tantissime situazioni andiamo ancora indietro arriviamo ai gemelli o a chi ha questa luna nuova in nona casa che è proprio sinonimo di espansione di viaggio di allargamento degli orizzonti tant'è che molti gemelli cominciano a cercare altrove ciò che non trovano in casa l'esempio che mi viene in mente per questo momento dei gemelli puramente simbolico è il giovane che lascia il piccolo paese che non offre grandi opportunità alla volta di una città più importante che smette di cercare ciò che desidera dove non può trovarlo e comincia a guardare altrove verso luoghi o situazioni aziende dinamiche collaborazioni dove veramente può trovarlo quindi è un andare altrove e un cercare le cose dove ci stanno importantissima in questa situazione i contatti con altre città i contatti con referenti anche all'estero tutto ciò che avviene in viaggio in trasferta in movimento con rapporti con ambienti nuovi può portarvi veramente tanto tanto in più e andiamo verso una seconda metà di febbraio che è veramente un costante una costante espansione per i gemelli per cui a parte che molti li seguo diciamo molti leggendo i vostri commenti vedo che molti stanno in viaggio che sono in trasferta che si stanno dedicando a cose nuove anche questo ha a che fare con l'espansione di questo periodo che stanno studiando cose nuove che stanno facendo dei corsi di qualificazione ecco tutto questo ha molto a che fare con questo anno che può veramente cambiare l'immagine personale e professionale dei gemelli in questo momento tutto ciò che è viaggio può veramente portarvi moltissimo andiamo indietro arriviamo al toro e a chi ha la luna nuova in decima casa allora la decima casa è la casa della carriera della crescita professionale quindi è una luna nuova che può portare nuovi orizzonti di crescita che può portare una promozione o quantomeno la notizia che un certo salto di qualità è possibile che può portare nuove responsabilità che può può anche diciamo prevedere degli esami che che possano far salire di livello per cui diciamo che da un punto di vista è una luna nuova che parla di crescita anche considerando il fatto che abbiamo giove in toro dall'altra però è una luna nuova che fa sentire un po sotto pressione che dà più forte la sensazione dei rischi delle responsabilità del maggiore impegno richiesto per cui simbolicamente ha proprio a che fare con un esame cioè posso ottenere di più ma devo dimostrare qualcosa ma questo è anche il modo per dare un senso a tutta la preparazione dei mesi passati per cui per qualcuno potrebbe essere veramente febbraio il mese degli esami finali di un certo percorso il mese di un colloquio di verifica il mese di un esame di laurea il mese di qualcosa che fa proprio accedere ad un livello superiore ma anche se così non fosse probabilmente è come se sul lavoro ci fosse la possibilità di alzare l'asticella di fare qualcosa che va più in su del solito e di mettersi in mostra con la possibilità naturalmente poi di fare un salto di qualità a livello successivo forte il senso delle responsabilità ma comunque se ve la giocate bene questo mese di febbraio per il toro può rappresentare davvero un trampolino andiamo ancora indietro arriviamo alla riete o a chi ha questa luna nuova in undicesima casa l'undicesima è proprio e per la riete forse questa è proprio la luna nuova delle nuove prospettive delle nuove dei nuovi progetti delle nuove della capacità di guardare la vita da una prospettiva più larga buttando il cuore oltre l'ostacolo diciamo che la riete viene da una fine dell'anno e da un mese di gennaio in cui è stata in trincea in cui se riusciva a finire la giornata facendo tutto quello che doveva fare dando i resti a tutte le persone che gli richiedevano già aveva dimostrato il teorema in tutto questo guardare le cose un po più in una prospettiva larga chiedersi io che cosa desidero quali sono i prossimi passi della mia crescita se ho un contratto in scadenza cosa ci sarà dopo tutto questo era molto difficile adesso febbraio permette proprio di allentare un po il carico e di ritornare a chiedersi io che cosa voglio fare da grande che cosa voglio fare dopo anche grazie ad alcuni incontri ad alcune nuove persone ad alcune conoscenze che allargano certe prospettive quindi questa è una luna nuova dove dovete fare particolare attenzione a tutte le nuove persone che entrano a far parte della nostra della vostra vita ma anche a quelle del passato che riappaiono perché possono essere veramente la chiave per aprire delle nuove strade allora chiudiamo con l'ultimo segno che sarà il primo il mese prossimo e cioè il segno dei pesci occhiata luna nuova in dodicesima casa la dodicesima casa è un po una sala d'attesa è un po un limbo di preparazione prima che inizi qualcosa di nuovo è un po la pausa in camerino prima di andare in scena per cui è un momento in cui si sta più racchiusi con se stessi in attesa di ripartire con qualcosa di nuovo nella seconda metà di febbraio il sole e poi via via tutti i pianeti veloci passeranno poi tra febbraio e marzo in pesci quello sarà un momento di nuova partenza questo invece è un momento in cui rimettere a fuoco le idee stare più in contatto con se stessi anche prepararsi per qualcosa di importante che comincerà come un esame come l'inizio di un nuovo progetto come l'inizio di un nuovo ruolo non ci scordiamo che abbiamo comunque saturno in pesci e quindi un cielo che richiede il massimo dell'impegno ma che richiede che dà anche la possibilità di fare un salto di qualità importantissima in questa settimana con la luna nuova in dodicesima casa importantissime le ispirazioni importantissime le intuizioni importantissimi i sogni che in generale raccontano più di quanto non capiamo diciamo ad occhi aperti cioè in questo momento tutto ciò che arriva dall'inconscio soprattutto attraverso i sogni spesso ci spiega qualcosa che normalmente ci fa sentire in un dilemma per cui è possibile che in questo momento molti pesci siano alle prese con una decisione che non sanno prendere con un qualcosa con un'iniziativa che non sanno prendere ma che hanno la abbiano la chiave giusta proprio con un sogno con qualcosa che gli dà l'imbeccata giusta ma proprio perché in questa sala d'attesa che non significa lo dico per i pesci o per chi ha questa luna nuova in dodicesima casa non significa che le cose non accadano anzi in questo momento i pesci hanno marte e benera a favore per cui rapporti possibilità di imporsi opportunità non è quello è che comunque c'è un bisogno di stare anche un po più in contatto con se stessi di darsi un po meno di eliminare un po di rumori di fondo di attingere a quello che abbiamo dentro e di non stare soltanto proiettati su ciò che ci chiedono gli altri per cui in questo momento i pesci hanno bisogno certe volte anche di chiudere la sala cinesca di stare per i fatti propri di riflettere di tornare più in contatto con se stessi e di ascoltarsi di più allora come questi sono un po le tematiche così a largo raggio per i singoli segni ma anche per le singole case se conoscete entrambe le informazioni dicevo prima ascoltate quella relativa al vostro segno come se fosse più generica e quella relativa alla vostra casa come se fosse più specifica faccio un esempio abbiamo parlato della vergine abbiamo detto che questa luna nuova parla della necessità di creare un ordine se però quella vergine nel proprio tema di nascita individuale ha la luna nuova che cade in quarta casa che è la casa della famiglia allora il sillogismo sarà nuovo ordine nei rapporti familiari e quindi magari c'è bisogno di affrontare un discorso con i parenti magari relativa ad un immobile sesta casa della vergine nella quarta casa del tema individuale se invece quella vergine avesse la luna nuova che cade nella seconda casa che è quella dei soldi allora nuovo ordine nei soldi e allora magari c'è la possibilità di cambiare regime fiscale di vedere commercialista di capire certe situazioni dal punto di vista economico se funzionano oppure no quindi partite dal segno e arrivate alla casa il segno è più generale la casa è più particolare e questo tra l'altro mi dà anche il modo di cominciare piano piano a calare queste fasi lunari nel tema di nascita di ognuno di noi io vi ringrazio per essere stati insieme non mi resta che darvi appuntamento alla settimana prossima augurarvi buona settimana a tutti e soprattutto buona luna nuova in acquario a tutti ci vediamo lunedì prossimo grazie 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 grazie